Sabato 30 novembre, il grande calcio di Serie C torna protagonista su Rete 8 con un appuntamento imperdibile. Dallo stadio comunale Pietro Barbetti segue in diretta in chiaro il match tra Gubbio e Pescara, una sfida che promette emozioni e spettacolo. Dalle 16.30 non perderti l'ampio pre-partita in diretta da Gubbio con analisi, interviste e approfondimenti. E dalle 17.30 la diretta in chiaro della gara, a seguire il post partita e le reazioni a caldo dei protagonisti, tutto in diretta su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre. Gubbio Pescara, vivi la passione del calcio, i grandi eventi sportivi solo su Rete 8. Grazie per la visione!